Ciao bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Stagnare E oggi siamo qui con un video magico Le nuove corde di Pornet Allora, ho preso lo starter pack Che mi affidavano che costasse di più Raga, è gigante Non riesco a farvelo vedere Tutto È un po' in casino Ok ragazzi, questo starter pack Che costa solamente 4,90 euro E contiene 25 sticker E il ladone Allora ragazzi, andiamo a spacchettarlo oggi Però oggi apremo solo due pacchetti raga Non so quanti ce ne siano di pacchetti Però vediamo Oh Dai che lo stacchiamo Oh Ok Non abbiamo un pezzo forte Scatolone, posso anche buttarlo via Ma, ma ragazzi Andiamo ad aprirlo Ragazzi, prima impressione devo dire che è veramente bello Wow Sbrilluccica raga Non so qual è Sì, penso che si dice Sbrilluccica Allora, questo buttiamo via perché io voglio ordine E raga Uh Raga Una figa Aspetta, ho fatto un effetto speciale, eh Tipo di salta Bellissimo Ok raga Andiamo dentro l'album Prima di tutto Allora 101 Dove dire che è veramente fatto bene raga Ready to jump Guardi raga E vediamo quanti Quante carte ci sono in tutto Allora 321 348 Vediamo un po' Ok Raga 315 E ti dice anche tipo La regina dei ghiacci E Aspetta Lunga vita la regina Ok, ok Sì ma In questa season Non c'è quasi più Però ragazzi Piacchetti sono veramente fatti bene E contiamoli un attimo raga Contiamoli un attimo Questi pacchetti Allora Siamo 1 2 3 4 E 5 raga 5 pacchetti Allora Oggi ne apriamo 2 E il prossimo episodio ne apriamo 3 Ragazzi E quello speciale Con un cavaliere nero Bellissimo Allora Metto via questi Apriamo questi due Sono identici Di colore Ragazzi Sembrava panini Quindi altissima qualità E potete anche andare VV panini Se vi mancano carte O cosa del genere Però Vabbè Allora Adesso Adesso Noi dobbiamo aprire In modo che non si strappano Le Le carte Ok Raga è impossibile Non farle non vedere Cioè Farle non vedere È impossibile Allora Devo vedere Quanti stickers Ci sono In un Pacchetto Fino adesso 4 Basta No Spera ragazzi Vi faccio Aspettare Un attimo Aspetta Ci sono altre Già un casino Aprirle Ragazzi Però Il fatto che Costano pochissimo Le metto in ordine Ok La prima è Com'è che si chiama Questa qua La 258 La mettiamo Dopo sull'album La 258 Poi abbiamo Allora La bomba normale La bomba appiccicosa Se non sbaglio E la Molotov No la Molotov Non mi ricordo Più come si chiama Dopo abbiamo Una Non è l'evoluzione Non sbaglio Scrivete qua sotto Nei commenti Se è l'evoluzione Ma secondo me È l'evoluzione Raga Comunque Questi due Andano bene Ragazzi Questo Mi è interessato Vabbè Questo Che è interessante Ma non così tanto Ok E l'ultima raga Allora È liscia È liscia Cioè Non tanto liscia È più Non lo so Vabbè Ragazzi Giriamo Spero Allora Allora Ragazzi Non so che Rarità Abbia Ma secondo me È una buona Rarità Ve la metto Pure a fuoco Vediamo Vediamo se Riusciamo a metterla A fuoco Raga Sì dai Ve la messa a fuoco Dai Bellissima È la numero 326 Ok Mettiamo questa Alla parte Fino adesso Sono soddisfatto L'ultimo pacchetto Raga Ovviamente Utilizzate Il mio modo Di Daniela Sniper Una Ma non fanno rumore Due E tre Ok Andiamo Aprirlo Con Non c'è più La forbice magica Di Daniela Sniper Peccato Allora Apriamo E raga Io vi volevo Dire Che ho comprato Anche una Mascotte Da Un mese E Di Daniela Sniper Non so Dove sia Raga Non Penso Quello Ho perso Ma Mio Dio Raga È difficilissimo Tirarle fuori Ok Comunque 5 sticker A pacchetto Poi Non so Se varia Perché Panini Ha fatto Anche Che variava Da 5 a 6 O da 4 A 6 Dipende Ok Allora Comunque Mi dà fastidio La carta Marun Che fastidio Corro Ok Raga Vi rigiro Io non sto vedendo Quella è la rara Non posso Vedere Quella è la rara Perché io Vi voglio Rispettare E voglio Anche Allora La prima Bene Bene Questo è un Nabbo Che cerca Di costruire Bene Ancora Di più Questo Ok Però Volete farmi Venire fame Allora Questa Mi faceva Venire La noia In aereo Questa qua L'aereo Non è che Danno da mangiare Molto buono Queste tre Si collegano Ma potete Anche Bene Ok Ice queen Ok E' la regina Dei ghiacci E' la Questa La 025 A me non ci posso Uh Bello Il lanciarazzi Ragazzi Molto bello A chi piace Il lanciarazzi Questa La reputazione Raga A chi vi piace Da queste Due Raga O lanciarazzi O lo Sparabombe Scrivete qua sotto Nei commenti A votazione Raga Ma Io Consiglio Cioè A me piace Vabbè ragazzi Se volete Un prossimo episodio Mettete Ragazzi Un bel like Arriviamo A Like E Finiamo Vabbè Ciao raga A A dirvi di Iscrivervi al canale Attivate la camerina Per non perdere Il mio senso Il nostro video Mettete un bel like E alla prossima Ciao ciao